Ciao a tutti, voglio parlare in questo video dei problemi d'amore per gli uomini tra i 45 e i 54 anni. Questa fase d'età non è critica soltanto per le donne, perché anche per gli uomini, diciamo, inizia a manifestarsi in modo più evidente quello che è il processo di invecchiamento, ovviamente. A 45 anni questo processo di invecchiamento si manifesta, diciamo così, e comprende diverse aree della vita. Queste diverse aree della vita ovviamente, diciamo, che possono interagire anche con la sfera sessuale, cioè il libido inevitabilmente diminuisce, poi dipende un po' da dove uno parte, però comunque si ha sempre una soggettiva percezione di un calo. Inoltre diminuiscono anche quelle che sono le performance, le prestazioni, che una persona può avere da un punto di vista fisico. Bisogna rinunciare a fare delle cose che, diciamo, prima di quell'età lì si riuscivano a fare. E tutto questo diventa sempre più marcato, sempre più evidente, fino a essere conclamato, comunque in ogni caso, arrivando ai 45 anni. Cioè lì lo percepisci comunque sicuramente, questo calo. Quindi devi fare conto di una nuova, diciamo, un nuovo pensiero, che è il pensiero dell'invecchiamento. Ora, qui poi da un punto di vista sentimentale dipende un po' com'è la tua situazione sentimentale. Molti uomini, diciamo, ad esempio single, cercano proprio in questa fascia d'età, diciamo, la capacità di coinvolgere, di sedurre magari donne più giovani per dimostrare ancora a se stessi di essere virili. E questo è sicuramente una modalità. Però, d'altra parte, il tarlo, il dubbio di non esserlo più, è quello che può, diciamo, non far vivere bene questi momenti, fondamentalmente, che altrimenti potrebbero essere piacevoli. Cioè conquisti una donna più giovane, che ne so, magari di 30 anni, per dire, e però hai, da una parte, il piacere di averla conquistata, dall'altra, hai il dubbio che, comunque, di non essere all'altezza, di non essere adeguato alla situazione. Quindi, ovviamente, se non sei adeguato, se non ti senti in grado di dare la soddisfazione che dovresti, che vorresti dare, hai paura di perdere. E quindi temerai, diciamo, due cose. A seconda del tipo di imprinting che hai vissuto, tenderai a temere o l'antagonista, cioè che possono infiltrarsi altri concorrenti, diciamo, tra virgolette, più giovani di te, in grado di, come dire, ostacolarti nel processo di consolidamento della conquista, oppure, se hai avuto un imprinting legato al genitore di stesso posto, tenderai a temere che l'oggetto di desiderio stesso, cioè che la donna stessa, non sia, diciamo, poi più disponibile, anche in assenza di antagonisti, ad avere una relazione con te. Quindi il dubbio poi si insinua e le persone che hanno, e che temono, ad esempio, l'abbandono e il rifiuto, ne hanno delle sofferenze. Non è che prima ne avessero, non ne avessero, però, ovviamente, questo andare avanti con l'età si accentua sempre di più. Inoltre, dobbiamo dire che poi dipende, invece, dalle situazioni sentimentali. Se una persona, invece, è all'interno di una relazione stabile, magari con una coetanea, percepisce ancora di più tutto questo, perché è inevitabile che nella relazione a lungo termine, poi ci sia un accentuato calo, diciamo così, del desiderio verso il partner e magari, accentuato dal calo naturale, ormonale, dovuto all'età, perdi completamente la voglia, diciamo, di fare l'amore col partner abituale. E questo, ovviamente, ti farà cercare, da un lato, delle trasgressioni con tutto quello che comporta, diciamo, trasgredire, perché comunque la trasgressione può mettere in difficoltà, può mettere in crisi un rapporto consolidato. D'altra parte, però, c'è il rischio che ti faccia anche sentire un po' inadeguato come maschio, perché perdi completamente poi il desiderio. Rimanendo nella relazione, rimanendo all'interno della relazione, se per vincoli morali non passi al tradimento, rischi poi di andare verso una vita più assessuata. Questo, ovviamente, non è detto che succeda sempre e costantemente, sempre e mai non esistono le parole, però è un qualcosa che può verificarsi più frequentemente. Se poi non hai avuto figli, ad esempio, in quest'età qua, sì che l'uomo non perde mai comunque la possibilità di procreare, quindi è un problema meno sentito rispetto alla donna, anche perché poi il maschio non ha tutta questa esigenza di diventare padre necessariamente. Però comunque senti anche da questo punto di vista che in quella fase d'età lì, anche per i ragionamenti, perché poi c'è tutta la parte logica che in questo punto di vista va a rimuginare, ragiona e ci pensa sopra, rischi di diventare, diciamo, non avere più la possibilità poi di riprocreare, di riprodurti. Queste sono le particolari problematiche che poi comportano dei comportamenti che talvolta spingono, diciamo, ad esempio, un eccessivo libertinaggio, a volere a tutti i costi dover dimostrare di essere ancora maschio, di essere ancora maschio virile, per cui il cinquantenne inizia magari a, come dire, a cercare di sedurre più donne possibili proprio per dimostrare, ma soprattutto a se stesso, di essere ancora in grado di farlo, di essere ancora un maschio adeguato e, soprattutto, se vive la competizione con i maschi, cercherà di, dire, entrare in competizione con altri maschi, soprattutto per la conquista di donne più giovani, avvenenti, in modo tale da conclamare a se stesso la possibilità di avere ancora questo, di essere ancora in grado, di essere ancora capaci, di essere ancora in grado di portare alta la bandiera, insomma. E tutto questo, diciamo, può essere vissuto in modalità diverse. La cosa importante sarebbe, come dire, rendersi conto del fatto che, come per le donne, d'altra parte, l'età anagrafica è solo un dato stampigliato, e trovare invece la motivazione, la forza in tutto questo, di migliorare se stessi fisicamente, di cercare di mantenersi giovani, di fare un programma di attività fisica, di fare un programma di alimentazione sana, una corretta, di integrazione eventualmente alimentare, per mantenere sempre, per rallentare. Noi abbiamo delle energie ringiovanenti interne, cerchiamo di mantenerle e di vivere il qui ed ora, di vivere il qui ed ora, perché comunque ogni età ha le sue, alle sue, diciamo, come dire, sicuramente ha le sue pecche, però ha anche dei lati positivi e quindi sta a noi andare a cogliere i lati positivi dell'età che stiamo vivendo e non soffermarci su quelli negativi, perché se vai a vedere ogni età, diciamo così, ha sia il positivo che il negativo, quindi va cercato il positivo per riuscire a stare bene nel qui ed ora, quindi cogliere l'adesso, l'adesso che è tutto ciò che davvero esiste. Bene, per questo video è tutto, lascia i tuoi commenti qua sotto, iscriviti al canale, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!